Meghan Markle sembra essere stata snobbata dalla regina che ha concesso a Kate un raro onore. La duchessa di Cambridge ha ospitato mercoledì il concerto di canti natalizi Together at Christmas all'abbazia di Westminster ed è stata vista indossare un paio di orecchini con zaffiri e diamanti che le sono stati prestati dalla regina. L'esperta reale Daniela Elser ha sottolineato che questa è la seconda volta che Kate indossa gioielli appartenenti alla regina. Affermando che crede che gli orecchini le siano stati prestati in modo permanente. Tuttavia, a Meghan è stata prestata solo la tiara nuziale della regina, cosa che i fan reali credono significhi che Kate è più fidata. Parlando a Newso, la Elser ha dichiarato, anche se l'ex attrice potrebbe possedere pezzi che erano appartenuti personalmente a Diana, principessa del Galles, mettersi in mostra in alcune enormi stelle filanti del tesoro reale è stato un vantaggio che non le è mai piaciuto. Grazie a tutti.